E siccome ci sono molte ragioni che porteranno anche nelle prossime settimane a scendere in piazza e a mobilitarci, sia per le questioni che riguardano la pace, sia per le questioni sociali che riguardano il rinnovo dei contratti, che riguardano una precarietà, e abbiamo teso a porre come tema anche al Ministro e anche alle forze dell'ordine, e al governo più in generale, questo tema che riguarda le nuove generazioni. Perché il disagio che oggi esiste verso i giovani e verso le nuove generazioni è un disagio reale con cui bisogna fare i conti. E non si risolve con i manganelli, ma si risolve ascoltandoli ed essendo nella condizione anche di ridargli la possibilità di essere protagonisti del loro futuro, e la democrazia si rafforza naturalmente nel rispetto delle regole e dei principi fondamentali della nostra Costituzione.